Nei giorni scorsi una nuova legge propone novità in tema di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, di flessibilità nei luoghi del lavoro subordinato. L'argomento che affrontiamo quest'oggi con il notaio, la dottoressa Giorgia Manzini. Sì, questa legge è molto importante, abbiamo seguito l'iter del disegno di legge e ora finalmente dal 14 giugno è divenuta operativa. Che cosa si intende? A chi è rivolta questa legge? Questa legge è rivolta ai lavoratori autonomi non imprenditori. Che cos'è un imprenditore? Un imprenditore è un soggetto che esercita professionalmente un'attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Questa legge quindi riguarda tutti quei soggetti che invece utilizzano il cosiddetto contratto d'opera e cioè dietro il pagamento di un corrispettivo compiono un lavoro improprio senza vincoli di subordinazione verso il committente. Quindi è rivolta ai professionisti e anche ai professionisti delle professioni protette compatibilmente con le singole leggi specifiche. Ecco invece abbiamo parlato di flessibilità del lavoro subordinato. Questa legge cosa propone di nuovo? Questa legge si rivolge appunto ai lavoratori autonomi non imprenditoriali e ai lavoratori subordinati e quanto a questi ultimi la novità è una novità che riguarda il lavoro cosiddetto agile. Diciamo che è una soluzione, una modalità di organizzazione del lavoro assolutamente auspicabile e moderna che è flessibile nei tempi e nei luoghi di esecuzione del lavoro. Cioè il lavoratore subordinato, il dipendente, anche il dipendente pubblico, secondo un preciso accordo per iscritto con il datore di lavoro può svolgere tutto o parte del suo lavoro e delle sue mansioni fuori dall'azienda o dai locali dello studio professionale secondo determinate modalità con tutte le garanzie in tema di sicurezza sul lavoro. Ecco dottoressa ci sono temi di grande attualità come la protezione, la difesa, la valorizzazione della maternità e anche il congedo parentale. Come rientrano in questo percorso? Certamente, finalmente è stato affrontato il tema della maternità delle libere professioniste e delle lavoratrici autonome. È un tema scottante perché sembrava una maternità di serie B rispetto a quelle delle lavoratrici dipendenti. Ora è stato previsto appunto il congedo parentale ai fini fiscali anche per il padre per un totale di sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino e poi è stata posta molta attenzione ai casi di malattia e infortuni perché anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti possono capitare questi incidenti di percorso che comportano l'interruzione dall'attività lavorativa e quindi la legge ha previsto sempre attraverso il meccanismo dei decreti delegati dal governo e ha previsto una disciplina secondo determinati principi per affrontare questi argomenti anche verso quei soggetti, le cosiddette partite IVA che prima erano esclusi dalla tutela prevista per i dipendenti, i lavoratori subordinati. Dottore Samanzini, a questo punto il ruolo dei notai quale può essere per affiancarsi a queste categorie? I notai possono essere dei consulenti in questi argomenti comunque sono essi stessi interessati dalla nuova legge come liberi professionisti sappiamo che il notaio è una sorta di già non bifronte e cioè è sia un pubblico ufficiale che un libero professionista che quindi organizza la propria attività in proprio con mezzi e strumenti propri e a proprie spese svolge cioè una funzione di sussidiarietà nei confronti dello Stato per queste attività che lo Stato gli ha delegato e dunque anche il notaio ha tutti i problemi le notaie in particolare delle libere professioniste in tema di maternità e anche in tema di pagamento del corrispettivo per le nostre prestazioni d'opera la nuova legge prevede appunto un termine massimo di 60 giorni per il pagamento dovuto ai lavoratori autonomi 60 giorni dall'emissione della fattura e dunque sono stati toccati i nodi centrali dei problemi delle partite IVA in Italia che riguardano comunque milioni di persone che si trovavano sprovvisti di una normativa specifica se non quella dei singoli ordini professionali che comunque mostrava alcune lacune in questi aspetti anche fiscali grazie a tutti grazie a tutti